Il meteo è presentato da Nuovo Tempo Complete Care Il mio segreto in caso di raffreddore Buongiorno, queste sono le previsioni per oggi giovedì 5 febbraio Al nord ovest cielo coperto con piogge su tutte le regioni per lo più deboli, neve sulle Alpi in media oltre i mille metri temperature stazionarie o in lieve calo vento moderato da sud nel mar Ligure Al nord est parziali rasserenamenti fino al pomeriggio lungo le coste nubi altrove ma con scarsi fenomeni inserata pioggia in Emilia Romagna la notte in Triveneto temperature poco sopra la norma, venti deboli al centro nubi compatte con piogge sparse in Toscana, Umbria e Lazio poco nuvoloso o nuvoloso lungo l'Adriatico pioggia inserata anche sulle Marche temperature su valori miti, venti meridionali anche moderati al sud molto nuvoloso in Campania con possibilità di deboli piogge, nelle altre regioni nuvolosità irregolare con maggiori schiarite in Calabria massime intorno o poco sopra i 15 gradi venti moderati nel Tirreno nelle isole, bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in Sicilia per l'intera giornata nuvoloso in Sardegna con dei rovesci nel nord dell'isola temperature senza grandi variazioni venti moderati da sud elaborazioni e foto digitali Epson grazie a tutti